Pronto? E c'è il monsignore? No, non c'è. Chi parla? Io parlo. Ah, e che vuoi? E trovate il monsignore? Andiamo a che si è andato. Lavoro a me, se che io mi diverto, non lavoro. Azzitto, ma fa parlare. Ma io pure per vostro figlio lavoro. Ma che niente e niente va cercando un vattrapia, spiccio? Signora... Tu l'hai da la saperte, mi figlio, hai capito? Ma lavoro, fa l'impiegato. Lavoro, al dopo lavoro del ministro del lavoro. Abba sotto da oggi, mi figlio, non è più monsignore. Lo doiermo un signore.